Allora ragazzi siamo arrivati a mille iscritti sul canale a nome veramente di tutti noi di Drawings and Dragons grazie non ci saremmo mai immaginati una crescita tale in così pochi così pochi giorni siamo felicissimi vi chiedo anche scusa per i deliri che stanno capitando il problema è che l'unica persona su cui io contavo ovvero Daniele è impazzito perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare far trovare a loro l'emozione dei nostri corpi improvvisamente nudi ma di spalle non so neanch'io dove andremo a finire sessione dopo sessione so soltanto che rare volte mi sono divertito così tanto grazie mille continuate a seguirci che mi sa sarà sempre sempre peggio o meglio dipende dai punti di vista un abbraccio a tutti e continuate a giocare sempre e comunque dalla mattina alla sera ma siamo arrivati a mille incredibile grazie davvero tanto per il supporto vuol dire veramente veramente un sacco continuate mi raccomando a seguirci anche se non ci spoglieremo tutte le volte ciao vi voglio bene ah insomma abbiamo fatto i mille iscritti eh bene e allora cacciate il lutta dov'è il grano eh io lo faccio per i soldi mica per la gloria o per la gloria lo facciamo per la gloria cazzo mi hanno fregato dai ragazzi grazie mille cosa? mille 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 iscritti mille sono tantissimi cioè mille sono più più di sette wow e ci sei arrivato tutto da solo eh sì 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 ho studiato io ho studiato grazie 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 a tutti ho visto che siamo in mille questo vuol dire che adesso il gioco si fa serio quota mille iscritti sul canale di throw in same dragons grazie per seguirci e grazie anche da ragno ammazza oh dice che siete mille mille l'ultima volta ho visto tutta sta gente tutta assieme è stato va bene vabbè vopo posso dire che dite mi dispiace che c'è stato il distanziamento sociale se non vedrai un bacione uno a uno continuate a seguirci che faremo dei casini belli grossi ciao tesorucci grazie